Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Evitare l'onta delle due Samb in campionato. Al centro dei giochi, la figura isolata di Roberto Renzi, presidente della Samb, sul cui gruppone ingrava un debito verso i giocatori e lo staff tecnico, per mensità non pagate da novembre in poi, stimate in 500.000 euro, a cui si sommano alcuni debiti verso i fornitori, gli oltre 220.000 euro di quote pignorate tramite la Garigliano SRL e debiti verso il comune per l'affitto dello stadio. Si fa sempre più largo anche l'ipotesi di un intervento del sindaco Spazzafumo, il quale potrebbe annunciare un nuovo bando di concessione per rendere difficile l'uso dello stadio da parte di chi, come la Samb di Renzi, ha avuto penalizzazioni per ritardi nei pagamenti sportivi. Renzi intanto attende l'udienza fissata venerdì alle 9.45 al Tribunale di Ascoli, dove si esaminerà l'insinuazione tardiva della reale mutua nel fallimento della gestione Serafino. Anche Renzi spera di ottenere qualcosa da questa audienza, ma le cifre che eventualmente potrebbe intuitare non sarebbero assolutamente sufficienti a saldare quanto dovuto ai calciatori. Sullo sfondo, o forse sempre più in primo piano, ecco l'operazione Massi, il quale attende di conoscere l'esito della Samb di Renzi per evitare di creare un doppione, ma si sta già muovendo per farsi trovare pronto entro la fine di giugno, trasformando il Porto d'Ascoli in una nuova Samb. Dopo i contatti con il consulente sportivo Max Fanesi, inizialmente si sono sondate le figure del direttore sportivo Samo De Angelis, nato a Samedetto, legato all'allenatore Mirko Cudini, che a Samedetto ha giocato nelle giovanili esordito come professionisti. Negli ultimi giorni ci sarebbero stati contatti invece con Andrea Coni, direttore sportivo della Samb, nei primi anni 90 sotto la gestione di Venturato. Il suo nome fu accostato nuovamente alla Samb proprio nei giorni caldi della gestione Serafino, quando un gruppo abruzzese tentò di accordarsi con il cantante Calabro Argentino. Massi, che nei prossimi giorni potrebbe incontrare Spazzafumo, avrebbe con sé altri imprenditori locali e deve valutare il coinvolgimento anche di Luigi Rapullino, oltre a quello di Franco Fedeli. Se al patrone di Sire Alba che l'ex presidente Rosso Blu potrebbero aiutare come sponsor, ma entrambi non disegnerebbero l'ingresso nella nuova Samb, a patto che nella compagine societaria nessuno possegga quote di maggioranza.